in questa stanza comunque Claudio la regoli sempre tu la temperatura in questa stanza oggi non l'hai toccato evidentemente andava bene oddio 28 ho letto pensavo di essere io sono un po' avanti con l'età le caldane autunnali ma c'è un crunerone visto che ti sei già inizio settembre mi hai detto il crunerone non torna il crunerone non torna hai ragione con un classico del crunerone poi ci sarà lo diciamo già da subito la sequenza mixata e poi ci sarà vai con riff però il crunerone io posso devo dedicare una canzone a Roberta Lanfranchi questa gliela dedicherò il giorno che mi lascerà scusate ci provo prego tutti la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio viaggio? e tu senza dir niente hai trovato il coraggio coraggio con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella ma quando ti arrabbi sei ancora più bella e così su due piedi io sarei liquidato ma è migliorato durante l'estate? ma vittima sai di un bilancio sbagliato oh le avevate tutte se un uomo tradisce tradisce a metà per cinque minuti e non eri più qua guarda io se mi lasci non vale tutti se mi lasci non vale è bravo la sta che io sto per pagare bravissimo sono quasi ciao Roby Roby amami ah ma va via amami Roby inimitabile grazie grazie Claudio un bacio grazie ciao 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 ciao